Siamo alla quarta giornata di campionato di seconda categoria giornale B. L'atletico pomarico sfida fuori casa il Grassano. La partita per il pomarico inizia male, infatti i padroni di casa si portano in vantaggio al secondo minuto di gioco. Il pomarico sembra non essere mai entrato in partita, infatti subisce gli assalti del Grassano e al venticinquesimo quest'ultimo segnerà la seconda rete facendo affivolire le speranze degli ospiti. Ma quando tutto sembra perduto il solito Fabio Montano accorce le distanze al quarantaduesimo. Con l'inizio nel secondo tempo il pomarico entra in campo con più grinta, ma al sessantottesimo il Grassano segnerà la terza rete su calcio di rigore. Nonostante tutto il pomarico non cede e al settantacinquesimo Fabio Montano sigla la seconda rete. All'ottantesimo Angelo Montano con una punizione segna la terza rete. La partita poi finirà con il risultato di 3 a 3. Dallo studio è tutto, ci risentiamo per i prossimi aggiornamenti.